Polvere di latte su Bruxelles, questa la protesta iscenata davanti alla sede del Consiglio europeo da una sessantina di allevatori in occasione della riunione dei ministri dell'agricoltura. I dimostranti sono contro la decisione della Commissione europea di rimettere sul mercato stock di latte in polvere ritirati per tentare di stabilizzare la sovrapproduzione. La nostra protesta con latte in polvere è molto simbolica, è per dire che questo eccesso di produzione ci sta uccidendo a casa nostra. Così come in Africa. Chiamati a raccolta dal sindacato europeo Milk Board, gli elevatori sono arrivati da Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Lituania. I manifestanti hanno chiesto strumenti di regolamentazione pubblica della produzione per limitarla, come le quote latte.